Su richiesta del consigliere Paolo Pagliaro, oggi in Consiglio regionale, nelle commissioni bilancio e agricoltura in seduta congiunta, si è discusso del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia. Situazione di stallo, con molti canali rigui, privi di manutenzione per carenza di risorse e personale, a fronte del tributo 630 e imposto ad agricoltori e cittadini consorziati. Di servizi e carenze messe a fuoco da Pagliaro nel suo intervento e confermate dai rappresentanti sindacali, debiti per 160 milioni di euro, lavoratori sotto organico e precari. L'assessore Pentassuglia ha parlato di situazione che si trascina da anni, ma che di fatto non è migliorata con la gestione accentrata del Consorzio Unico, istituito a gennaio scorso e che ha assorbito i quattro consorsi commissariati e soppressi dell'area Salentina e Barese, Terre da Puglia, Stornare e Tara, Arneo e Ugentoli Foggi. Ha anche annunciato una modifica alla legge regionale che ha istituito il Consorzio Unico per spalmare il piano di riequilibrio da 2 a 10 anni e facilitare il risanamento dei debiti. Ma intanto ha incalzato Pagliaro. Come sono state impiegate le somme incassate con il tributo 630 in questi mesi di gestione del Consorzio Unico? A questa domanda non ha risposto in modo esauriente il commissario Francesco Ferraro, nominato a marzo scorso. Anche sul fronte occupazionale la situazione è drammatica, solo 110 dipendenti a tempo indeterminato e 150 stagionali per il Consorzio più esteso d'Italia, mentre il piano di fabbisogno ne prevede 278 a tempo indeterminato e ci sono concorsi espletati e vincitori in attesa di assunzione. Grazie a tutti.